qui continua l'avventura di pinocchio testa dura di ritorno alla casetta trova il grillo che l'aspetta e gli tiene un bel sermone con infausta conclusione brutta fine presto o tardi tocca i discoli bugiardi oh grillaccio fa il monello parla un po col mio mertello vedi tu che fine tocca a chi troppo apre la bocca corre quindi al focolare l'appetito per calmare ma il paiolo ahimè è dipinto e anche il fuoco è un fuoco finto sta però fra l'immondizia un ovetto che delizia in padella o in frittata la merenda è assicurata rompe il guscio il burattino e dall'uovo e con pulcino guizzar via strizzando l'occhio tante grazie sor Pinocchio affamato disperato va a bussar dal vicinato ma il vicino dal terrazzo gli regala un freddo guazzo su un caldano come vedi asciugarsi volle i piedi ed i piedi si asciugarono anche troppo e si incendiarono uno un 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 Grazie a tutti.